Mr. Paolo, scusa per questa attesa, perché abbiamo fatto un collegamento con El Bassan. Perché è stata la vostra presenza qui in Albania? Un giornalista italiano di un grande giornale viene in Albania per seguire De Biasi o per seguire l'Albania? Tutte e due le cose. Perché... Il risultato ottenuto in Portogallo... Il risultato in Baiton Portugali... E' stato probabilmente il risultato più importante della prima giornata delle qualificazioni. Il risultato di Milano, sì, è un mi-rounded partner, diceva il minatore, è il risultato di Cipris in Portugali. E il fatto che ci sia un allenatore italiano... Il fatto che ci sia un allenatore italiano... Protagonista, protagonista di questa grande vittoria... Protagonista di Cipris... Naturalmente interessa ai nostri lettori. E' un'interessazione delle sue sue italiane. Cioè, qual è l'opinione per De Biasi in Italia? L'opinione di De Biasi per l'italiano? De Biasi è stato un allenatore che ha fatto molta Serie A in Italia. E questo dimostra il suo valore. Dhe kjo demonstron vleren e ti si trainer. Non aveva mai avuto fino a questo momento l'occasione di fare qualcosa di grande. Nuk a pasur, drenge të momente, as njëherë, mundsin per t'bërdi c'katë madhe. E tutti pensiamo che se riuscisse a portare l'Albania in un grande torneo come i mondiali ci ha provato e come l'europeo ci sta provando, sarebbe la cosa grande della sua carriera. Do t'ishtë i gjea më mire carriere stine se do t'arri në të cion të Shqiprin e provo i me botre orin, nuk arriti, do t'arri në të cion të Shqiprin in fase në finale të europianit. Però il suo moto ci credo. Si. Tutti gli italiani ci credo, no? Gli italiani t'besojin, po dhe moto i De Biasi të shion t'besojin. Si, adesso, beh, ripeto, quando tu hai fatto, allora, qualificarsi a quest'europeo e meno difficile di altre volte. Eh, të qualificoes në këtë europianis, më pake vështir se sa eartë tjera. Perchë con ventiquattro squadre che partecipano, invece di sedici, ci sono otto posti in pium. Dhe antëtë squadra më shumë ga i gjashtun djetë c'e khancian. E quindi, se tu cominci il tuo girone con una vittoria inattesa sul campo della squadra più forte delle altre, sei, come si dice, «Khi ben comincia e a metà dell'opera». «Kush filon mir shumë në rugus. Khi ben comincia e a metà dell'opera ed su e per si l'edetë collego Paolo Kondo. Però, dal tuo punto di vista, come lo vedi questo gruppo? Il gruppo dell'Albania? Perché Italia vinto ieri, eh? Si, si, si. Giovane. Il gruppo l'itali storin? Noi sappiamo che se tutti i giocatori di origine albanese avessero scelto la nacionalità albanese? Ne dim dhe emi koscient që nëse gjithë l'italet me origine shqiptale do t'kishin zgjedhur ekipin komtar të përfajsoeshin? E parlo di Shakiri, parlo di Shaka, parlo di Berami, e kose tutti questi giocatori, Januzaj, ovviamente, avessero scelto na centrali albanese, l'Albania sarebbe una delle otto skuadre più forte d'Europa. kipriar dëtis të n'ingatet skuadrat mëtfurtat Europas. Përô, vëj avete scritto, mister, che De Biasi ha provato di tëto. Si, si, per prendere Januzaj. In un'altro studio, e' stato con me, ha detto e' più facile incontrare Papa Francesco che incontrare Januzaj. E' shme dhjesht a kosh Papa Francesco nëse sa Januzaj. A me ha racontato che ha mandato cento mesaggi al padre di Januzaj in tre lingue. Mua më ka treguar dhe zotria e ka shkruetur sot nga Zedelo Sport që De Biasi ka treguar një cilë mesagje në tre gju babajt Januzajt. Ma non ha mai ricevuto ne e kreja risposta no, non ci interessa. Dhe, nuk morit pakte nasë përgjigjen jo, nuk në interessonkio. Un silenzio che poi si e' spiegato quando lui ha scelto la nazionalità del Belgio e' andato i mondiali. Vecchio spiegua quale i zio di Belgi con un desco in botrol però non ha giocato. No, non ha giocato però comunque ormai fa parte della nazionale del Belgio. Fa parte della nazionale del Belgio. Però Peccato perché Januzajt potrebbe diventare uno dei migliori giocatori del mondo. Tu conosci tu conosci signor Paolo Gianni più di me. naturalmente. Io penso che quando arrivano le partite Gianni e' molto tensionato. A grande tensione cioè poi torna la sua torna la sua simpatia e piacevole con la bici. Con la bici. e' shummi tensionuar non nacionali abituate nel tempo a kompetere. sepse sepse këtojnë kompetare cilat janë tafta dhe janë taftat për shtaten në kohë dhe në fushat ndryshme. Mentre Albania e giovane. Ndërsa Shqipria është ere. A l'entuziasmo ka entuziasmin ma non ha l'esperienza per questi livelli e tante volte l'entuziasmo për bastare. Dhe por në shumis në raste l'entuziasmi muntum i aftoi. Ma non e' detto. Por nuk është të thënë. Però l'entuziasmo Gianni ha detto che la sua cosa che preoccupa di piu e l'euforia. Si. L'euforia che preoccupano në shummi. Lui dice che gli albanesi che i calciatori albanesi sono rapidi a esaltarsi e rapidi a deprimersi. A i thot vet që l'euforia futbolistet shqiptar që a i ka stervit janë janë shumë të shpejt të esaltojen shumë të kalojnë një entuziasmo pjash zakonqëm dhe me njërë të ulin kokë në kur humbin dhe të kalojnë një shok dhe një traum psikologjike. E kundi lui dhe sem për stare molto atento a tënerin equilibrio la mentalitë dei suoi giocattori. Dhe dhe të ciumi qui dësë un për tënë në equilibë mentalitë në efutbolistë dhe të të mi ha detto anche questa cosa signor Paolo non è come funziona in Italia a quanto riguarda la stampa italiana sportiva si funksionu in Italia dhe fakti signor Gianni dice che kando noi vinciamo soltanto una partita di fila voi ti manderete al cielo poi kando noi perdiamo voi dite di tutto che noi siamo una kativeria c'è kur fitoj mi uve qoni in ciel i referoj debjasi një moment stupid nërsa kur humbasi mi uve stupid një me këmpë në aspektin e opinioni kome funziona in Italia in Italia funziona diversamente përkë funksionu në ndryshe ottenere certi rezultati e normale sepse për të marë rezultate tila për Italinë është dhe të shpiesh normale e kundi e pjë normale këra stampa italiana bastona se se andato male këna un falje logi se se andato bene dhe është më normale nëse shtyp italian godet rënd përfajsuese nuk me rezultate sepse duhet i marja ose sati api e logje kër duhet fitoj e mentri invece jo kapisko që l'Albania sta provando a fare la storie Shqipria është duke provuar për të bërë historim per la Danimarka oggi sarebbe normale vincere dërsa për Danimarka është normal e të fitoj sot e un kompito di kaza dhe të shpiesh e në kosa normale është një diska normale le grandi nazionali sono sempre venuti në Albania a vincere sepse kontarit e mdaja kan ardhur gjithmon në Shqipri ma tu dici signor Paolo che oggi possiamo fare la storia ma e soltanto la seconda partita come possiamo fare la storia con la seconda partita si mund ben i storin sepse svetë në deshe e dyt ci sono anche partite se tu parti con sei punti nelle prime due partite contro due squadre che stanno più in alto di te nella classifica della FIFA come il Portogallo e la Danimarka e una gran bella partenza la qualificazione e come un libro tu per arrivare all'ultimo capitolo devi scrivere quelli prima però c'è anche questa teoria dei allenatori che prendiamo la partita una per l'altra cioè De Biasi non ha detto nessuna parola per la Serbia si e c'è storia per t'mare në deshe në radhë më radhë tutti gli allenatori fanno così t'gjithi tra i nero t'benk shtu anche perché se ho capito bene la partita con la Serbia non sarà uguale a tutte le altre nëse une kam kuptuare mir e quindi se i suoi giokatori che già devono fare una grossa cosa per battere la Danimarka pensano già adesso alla Serbia per di quella Danimarka e nëse lojtarët duet bëjnë një diçka shumë t'madhe per t'mundur Danimarka nëse ata e kanë mëndien sot e k'Serbia thot kolegu nga Gazeta dello Sport sot ata do t'më basi nëse kanë mëndien t'ek'Serbia sepse sot ata kanë përball Danimarka signor Paolo un t'uë pronostico në parashikim iuëi non come amico di Gianni o come giornalista italiana ma il t'uë pronostico come uomo che segui da tanto tempo il calcio europeo il risultato piu' normale questa sera sarebbe un pareggio risultati piu' normali nëbromis sot dëtishte barasimi che son che è un equilibrio fra l'entusiasmo dell'Albania e l'esperienza dëlla Danimarka Ãshni equilibrio mës entusiasmi danes dëxperienzes shipris però il presidente del Federcalcio albanese ha detto contro la Danimarka e contro la Serbia preferisco meglio dëxpunti che tre preferimmo dëxpunti sa tre cum nëto dëndesje e una valutazione politica Ãshni vlersim politik no non valutazione politica però una valutazione che tolgo a tutte le dëxpunti dëxpunti però ripeto in questo momento c'è un'onda di entusiasmo che fa viaggiare la macchina dell'Albania più veloce e cerchiamo di tenerla per momenti inca njivali entusiasmi che puoi uvecch macchina in Shiptane dretni successi dhe shpressoim tambajm signor Paolo se ti faccio una domanda in questo momento escludiamo l'Albania tu dove lo metteresti Gianni in Serie A e ichim ciprim kudda vendossi debiasi in prigni panchi in Serie A secondo me sarebbe bello e sarebbe giusto che lui avesse un'occasione di una squadra che può lottare almeno per le coppe europee ti posso fare un esempio una Lazio una Fiorentina una squadra di questa grandezza una Sampdoria una squadra così di questo livello mi squadra te ne vedete Lazio, Fiorentina Sampdoria che jan che dhe luftoim per zonate europeiane